scusate le spalle ma potrei stare qui tutto il giorno ad ammirare la nuova ford gt guardate che cos'è questa macchina cioè adesso vi faccio vedere un po di dettagli però già così intanto non ha quattro scarichi ma sembra di sì perché questi fari ad anello sono fantastici e poi cerchiamo di spostarci con la telecamera questa è la vista più impressionante guardate quanto è stretta la carrozzeria come si incastra qua dietro sembra ad abbracciare il volante che un 3.5 v6 biturbo da 608 cavalli quindi le varie ferrari porsche mclaren hanno una nuova rivale e questa è la macchina che ford ha creato per festeggiare 50 anni della tripletta della vittoria aleman con la ford gt 40 tutta spigolosa bassa molto distanziate le ruote al di là del passo il fatto che si restringa così tanto crea veramente delle proporzioni molto strane e adesso vediamo il frontale perché questi fari sono finti sembrano finti sembrano fatti per un film non ho ancora capito se mi piacciono fino in fondo come il posteriore però nel complesso è veramente una super super car questa ford gt mi sono dimenticato di dirvi un altro dettaglio meccanico il cambio è un doppia frizione a sette marce guardate anche che belle le l'aerodinamica del cofano anteriore per l'estrazione dei flussi d'aria neanche a dirvi che i freni sono carboceramici in questo caso con pinze fisse della brembo e come vedete sto girando attorno alla macchina perché non mi posso avvicinare troppo adesso cerchiamo di zoomare per farvi vedere gli interni perché il volante da cartella stampa è ispirato ai comandi della formula 1 quindi pieno di tasti ci sono due mega pedal al volante dietro anzi volante e come ultimo dettaglio perché si tratta sempre di ford quindi tutte le tecnologie vengono convogliate anche in un mostro del genere c'è l'ultimo sistema evoluto di infotainment il sync 3